Marche Multiservizi presenta Il Rifiutologo, la differenziata ai tempi dello smartphone. Se scarichi l'applicazione potrai segnalare rifiuti abbandonati, richiedere il ritiro di rifiuti ingombranti, avere tutte le informazioni sulla raccolta differenziata e trovare il centro di raccolta più vicino a te. Scarica l'applicazione Il Rifiutologo sull'App Store e Google Play.